Siamo sicuri che sappiamo cosa significa avere fede? Perché io non credo, vi dico la verità, perché purtroppo spiritualmente parlando la nostra nazione non è una bella nazione, sapete? L'Italia ha tante cose belle, ha tanti bei panorami, belle città, tanta storia, tanta cultura, buon cibo, quello che volete ma dal punto di vista spirituale la nostra nazione è forse tra le più, se non, io penso che sia così sia la più carente al mondo, la più povera al mondo dal punto di vista spirituale, la più impoverita, una cosa che manca tanto agli italiani è la fede, perché noi siamo un popolo malizioso, diciamo la verità, voglio dire alcune cose stasera, l'italiano è un po' malizioso, l'italiano non si fida, governato per tanti anni magari da dei governi sbagliati, da una storia che ci ha sempre, diciamo, dato addosso in tutti i sensi, l'italiano non si fida del suo prossimo, non si fida di nessuno, ha difficoltà a fidarsi, è sempre un po' malizioso, tende sempre a pensare che sotto ci sia un inganno, che sotto c'è qualcosa, che bisogna stare attenti perché fa parte proprio del DNA dell'italiano e mi rendo conto che ci sono stati, ci sono tuttora dei generali di Dio nel mondo, Dio ha sempre mandato uomini di risveglio che hanno influenzato, hanno colpito con veramente segni anche prodigi l'intero pianeta, ma quando si tratta della nostra nazione Italia siamo sempre esclusi e io credo che siamo esclusi perché c'è questa diffidenza generale, ecco, una diffidenza proprio nel DNA e la diffidenza significa incredulità e la stessa cosa poi la riversiamo, la applichiamo nei confronti di Dio, io me ne rendo conto per quello che faccio, ovviamente, quello che facciamo sulla pagina, tante volte io mi diverto, permettetemi il termine, non mi diverto, però ovviamente con Mary io mando alcuni messaggi, faccio vedere alcuni messaggi e dico guarda che risposte, guarda che cosa mi scrivono, vogliono essere magari guariti, vogliono avere qualcosa da parte di Dio con questo atteggiamento che non è di fede e quindi ovviamente a volte ci ridiamo su certe cose chiaramente, però va indirizzata questa cosa, va chiarita, insomma bisogna avere fede, la vera fede, non quella che ci hanno insegnato quella fasulla, purtroppo a volte tentando anche di aggiustare il concetto della fede o di dare più fede ai credenti si fanno degli errori che portano il concetto della fede agli estremi, ma stasera vedremo un insegnamento equilibrato, inizieremo a mettere le fondamenta che riguardano la fede. So che siamo ancora all'inizio, si collegheranno più tardi, per questo vi raccomando non perdete mai le introduzioni delle dirette perché è lì che noi mettiamo la base su quello che diremo dopo e quindi vi incoraggio davvero a essere puntuali perché questo giova al comprendere quello che stiamo dicendo, magari vi collegate troppo tardi e avete a che fare con dei concetti che ormai sono inoltrati, non avete la base per digerirli. Allora, iniziamo subito, stasera parleremo iniziando da quello che è il capitolo della fede, Ebrei 11. Dove possiamo iniziare se non da Ebrei 11? Che Ebrei 11 ci dà un'introduzione dicendo la definizione di fede, proprio in una maniera quasi scientifica, ci dà la definizione della fede e poi ci dà degli esempi di fede. La prossima volta vedremo più gli esempi, stavolta ci soffermeremo sulla base, sulla definizione. Allora, lettera agli Ebrei al capitolo 11 al versetto numero 1. La Bibbia dice, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Ora, questo versetto dice tutto sulla fede. Potrei predicare un'ora soltanto su questo versetto, c'è tanto, c'è tanto e tanto su questo versetto che può essere diviso, spezzettato in due parti. La fede è certezza di cose che si sperano, numero uno. Numero due è dimostrazione poi di realtà che non si vedono. Quindi c'è una prima parte e c'è una seconda parte. C'è una parte che viene dopo avere certezza delle cose che si sperano, che è quella di dimostrare, provare queste realtà che non si vedono. Quindi la Bibbia ci dà questa definizione di fede. E vogliamo concentrarci sulla prima parte adesso. La fede è certezza di cose che si sperano. Allora, attenzione a quello che sto per dire adesso. Attenzione perché questo vi farà capire tutto quello che diremo da ora in poi. La parola sperare non è una traduzione sbagliata, però il termine sperare, il concetto di sperare, il verbo sperare in italiano ha assunto una accezione che non va più bene con la scrittura, non va più bene con la Bibbia, con quello che la Bibbia vuole dire. Perché se io devo andare all'originale, alla testa originale, la parola sperare è il piso in greco che significa aspettare con fiducia. aspettare con fiducia. Quindi la speranza biblica in realtà non è la speranza che usiamo noi in gergo oggi. Quando noi diciamo io spero che succeda un miracolo, io non sto per niente esprimendo fede. Io sto dicendo speriamo, mi auguro che succeda qualcosa. Quindi quando la Bibbia dice speranza non indica la speranza che intendiamo noi. Ecco che a mio parere i traduttori della Bibbia italiana dovrebbero un po' cercare di cambiare questa cosa e tradurre, come altre Bibbie fanno, speranza con aspettare. E questo aspettare, se voi andate proprio nei dizionari biblici, la parola il piso significa aspettare con fiducia. E questo rivoluziona tutto, perché non si tratta più di sperare che accada un miracolo. Speriamo che qualcosa vada bene. No, si tratta di aspettare con fiducia. Io so che il miracolo sta arrivando. Mi aspetta. È mio. Dio me l'ha promesso. Entrerà nella mia vita. Quindi adesso voglio darvi la definizione tradotta per bene letteralmente. Voglio che ve la scriviate, voglio che la memorizzate. Ebrei 11.1 quindi dice la fede è certezza di cose che si aspettano con fiducia. È dimostrazione di realtà che non si vedono. La fede è certezza di cose che si aspettano con fiducia. Quindi certezza, certezza. Non è dubbio. Qualora nella vostra mente vi dovesse sorgere il dubbio, voi non state operando in fede. Non c'è fede. Non ci sono i presupposti per la fede. Neanche la base per la fede. La fede non ha niente a che fare col dubbio. La fede è una posizione di certezza. Io so che so che so. Sono tranquillo che Dio sa. Questa situazione ha già risposto. Adesso lo vedremo alla mia situazione. E quindi è certezza in cose che io aspetto con fiducia. Aspetto con fiducia. Marco 11.23. Gesù disse in merito alla fede. In verità io vi dico che chi dirà questo monte togliti di là e gettati nel mare. Se non dubita in cuor suo ma crede che quel che dice avverrà qualunque cosa dirà li sarà fatto. Perciò vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Credete che le avete già ricevute. Questo significa certezza di cose che si aspettano con fiducia. La fede non vede il presente ma vede il futuro. Gli occhi della fede sono ciechi rispetto al presente. Se io ho fede in realtà sono cieco. Sono una persona cieca che non vede il presente. Non vede le condizioni attuali. Non vede le circostanze negative. Non vede la malattia sul mio corpo. Non vede il debito che c'è da sanare. Non vede i familiari non convertiti. Una persona che ha fede non vede le circostanze negative ma vede soltanto le promesse di Dio. Vede già al futuro e aspetta con fiducia, con certezza, inequivocabile che quella cosa avverrà. Punto e basta. Non ci sono dubbi. Non c'è da interrogarsi. Non c'è da scervellarsi. Se la Bibbia dice se la sua promessa è quella, se la parola di Dio avverrà e potete contarci, potete vendervi un rene, potete fare quello che volete. Se lo dice la parola di Dio avverrà. Avverrà. Perciò dice Gesù quando pregate, quando chiedete a Dio qualcosa che sapete che è nella sua volontà, che è una sua promessa, credete che lo avete già ricevuto. Quando Dio fa una promessa ed è nella parola di Dio, io so che quella è la sua parola, io credo che ho già ricevuto. Se stiamo pregando per la guarigione, io credo che mentre sto pregando io ho già ricevuto e sono stato guarito. Non mi metto a sindacare e indagare dopo se io sono stato guarito o meno. Io credo che in quel momento sono stato guarito. Questa è la vera fede e senza questo atteggiamento noi non possiamo vedere la potenza del regno di Dio pienamente all'opera nella nostra vita, nelle nostre chiese, nelle nostre riunioni, nelle nostre case, nella nostra Italia che è così diffidente. Noi abbiamo bisogno di questo tipo di fede. Ripeto, la fede è cieca nei confronti del presente e guarda soltanto al futuro, guarda soltanto le promesse di Dio, non guarda le circostanze attuali, non dubita dicendo ma io non vedo, ma io non sto vedendo i risultati. La fede sa, aspetta con fiducia che quanto è stato promesso avverrà. Ora, noi esercitiamo la fede tutti i giorni in realtà. Non esercitiamo nelle cose di Dio, ma nelle cose quotidiane. Ma voi sapete che noi esercitiamo fede tutti i giorni. Quando voi andate ad accendere il motore della macchina, quando girate le chiavi nel quadro della macchina, vedete ci sono tante cose che potrebbero andare storte. Non funziona il carburatore, la batteria scarica, c'è un problema elettrico, c'è un problema meccanico, non c'è benzina nella macchina. Cioè potrebbero succedere tante 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 cose, perché comunque la macchina è una, appunto una macchina complessa, fatta di roba meccanica, roba elettronica, quindi potrebbe non funzionare qualcosa. Ma io sfido chiunque stasera a dirmi se prima di girare la chiave nel quadro inizia a domandarsi se la macchina non partirà o inizia a dubitare che la macchina non parte. Io credo che tutti noi andiamo con fiducia al quadro della macchina, giriamo la chiave, la macchina si mette in moto, noi tutti tutto scontato ovviamente andiamo e camminiamo. E mentre stiamo camminando e stiamo viaggiando con la nostra macchina, non penso che stiamo scolando lacrime di sudore, sperando che la gomma non si buchi, sperando che il motore non funzioni, sperando che all'improvviso ci sia una perdita, non c'è più benzina, che la batteria ci lasci, che succeda qualche cosa. Io credo che nessuno viaggi in questa maniera. Noi viaggiamo tranquilli e sereni, facciamo magari ore con la nostra macchina, arriviamo a destinazione senza mai dubitare che la macchina si metta in moto, cammini e ci porti a destinazione. Cioè noi applichiamo la fede tutti i giorni e non ce ne rendiamo conto. Mentre con le cose di Dio, prima di pregare, prima di chiedere una guarigione o qualsiasi cosa, dubitiamo 3.000 volte. Dubitiamo 50.000 volte, dubitiamo ma chissà alla fine se Dio vuole, se sono nei suoi tempi, se Dio opererà, se devo andare forse da un'altra chiesa, se devo chiedere preghiera ad un'altra persona. Dubitiamo 50.000 una volta, quando nella nostra quotidianità noi applichiamo la fede di continuo. Quindi un altro esempio, quando voi ricevete un bonifico o ricevete un assegno, ricevete un versamento sul conto corrente, vi faccio un esempio. Vi danno una ricevuta, io ti ho fatto un bonifico, adesso devi aspettare. Quei soldi arriveranno fra due giorni, tre giorni, quattro giorni. ovviamente voi non state con il sudore che cola dalla fronte, mamma mia, chissà, se arrivano i soldi, sono tanti soldi, e se non mi pagano, e se mi ha fatto una ricevuta falsa. Voi sapete, aspettate con fiducia, che quei soldi arriveranno. Che quei soldi arriveranno. Così semplice. Vedi, applicate la fede tutti i giorni. Cioè, voi sapete già, tre, quattro giorni prima, sapete già che sul vostro conto corrente fra poco ci sarà un addebito. Arriveranno dei soldi, e ci sarà appunto un versamento. Quei soldi arriveranno. Lo sapete già. Ce lo vedete già nel futuro, perché siete certi di questa cosa. Così devono essere le cose di Dio. Quando noi andiamo dal dentista, dal medico, dall'avvocato, dove dobbiamo stare in una sala di attesa, a volte passano delle ore. Non sappiamo se passa mezz'ora, un'ora, e mezza, due ore. Quanto dovremmo aspettare? Ma una cosa sappiamo, che alla fine comunque ci andremo. Il nostro appuntamento non salta. Comunque avremo la nostra visita medica, la nostra consulenza dall'avvocato. Questa è fede. Questa è fede. Sapere con certezza che nonostante la circostanza attuale, comunque arriverai dove devi arrivare. C'è poco da fare. Ci arriverai lì. E questa è la fede. Quando voi prendete l'aereo, ormai tutti noi abbiamo quasi tutti preso l'aereo. Quando voi prendete l'aereo, che cosa dovete fare? Assolutamente niente. Pagare il biglietto. Quando vi pagano il biglietto, quando vi arriva il biglietto a casa, oppure andate a fare il check-in e vi danno questo biglietto, nessuno vi dice chi pilota l'aereo, come si chiama, il curriculum, quante ore di volo ha, quanto è esperto, la rotta che ha impostato nell'aereo. Non vi dicono nulla del pilota. Voi andate sull'aereo e avete fiducia che vi metterete dentro, c'è un bravo pilota all'interno che non conoscete, che vi porterà a destinazione. Questa è fede cieca, ragazzi, amici che state ascoltando. Questa è fede. La applichiamo tutti i giorni nella nostra vita. Però, quando si tratta delle cose di Dio, quando si tratta delle promesse che Dio ha fatto, secondo la sua volontà, come diceva qualcuno, secondo la sua volontà che sono nella parola di Dio, che sono cose certe che Dio ce le darà, li dubitiamo. Allora, eh, ma non sappiamo poi alla fine. Non funziona assolutamente così. La fede è certezza di cose che si aspettano con fiducia. Questa è la fede. Certezza, non è dubbio. Io, purtroppo, vedo degli atteggiamenti che poco hanno a che fare con la fede. Tante volte, quando si ministra, ministra per la guarigione, o peraltro, la liberazione, il battesimo con lo Spirito Santo, un tocco da parte dello Spirito Santo. Tu vedi le persone, quando apri gli occhi, che hanno gli occhi chiusi e che sono presi dalla presenza di Dio? E quando tu dici, fai un invito, dicendo io sento, in questo momento, che c'è la potenza di Dio, parleremo della potenza, dell'unzione fra poco. Io sento che c'è l'unzione. Lo sento e vi dico che se voi in fede mettete la mano nella parte malata, sarete guariti. E tu sai che sai che sai che saranno guariti se hanno fede. E tu vedi quelle persone che chiudono gli occhi, mettono la mano, e io so dire a priori, quella persona sarà guarita o è stata guarita. Ma poi è così, è così, perché tu li vedi, vedi l'atteggiamento, capisci se hanno fede o no per essere guariti. Mentre ci sono quelli che magari mettono la mano e poi con l'occhio spiano a destra e a sinistra. Ma è vero? Vediamo che sta succedendo a fianco a me, che sta succedendo al fratello, che sta succedendo alla sorella. Non funziona così. Quante volte ad esempio preghiamo nelle nostre dirette, signore opera, potentemente, però ci sono quelli che nonostante li invito a chiudere gli occhi, a mettere le mani, alzare le mani al cielo e ricevere, commentano, stanno lì a commentare, signore ti prego, e dai speriamo, e prega per questo, e prega per quest'altro. Non funziona assolutamente così. Non funziona assolutamente così. Ma se ho detto chiudete gli occhi, mi ponete la mano, abbiate fede e starete guariti, fatelo, perché altrimenti vuol dire che non avete fede, state dubitando. Quante volte riceviamo messaggi di continuo, di gente che dice, fratello prega per me, perché c'è questa malattia, speriamo, speriamo, tante volte questa parola, speriamo che il signore mi guarisca. E io rispondo, speriamo, speriamo, che cosa dobbiamo sperare? Dobbiamo avere certezza che quando si prega il signore guarisce. O tante volte addirittura sono state pubblicate, dirette, video, dove ci sono ministrazioni di guarigione, e invece di cliccare il video e di guardarlo, ricevo il messaggio di persone che non guardano il video e dicono, prega per me, ma guarda il video, dove c'è la potenza di Dio all'opera, dove può scorrere anche attraverso il video la potenza di Dio. Mentre si sta ministrando, abbi fede, metti la mano nella parte malata, credi, sarai guarito anche tu. Non speriamo che forse se Francesco prega per me succederà qualche cosa. Non si può ricevere in questo modo. Purtroppo la stragrande maggioranza dei credenti italiani ha questo modo di fare. Mandiamo un messaggino, pregate per me, e speriamo poi che Dio operi. No, no, la fede non si basa su questa speranza falsa, la fede si basa su certezza di cose che si aspettano con fiducia. Se io ho pregato per la guarigione, Giacomo capitolo 5 dice che quella guarigione verrà. Se qualcuno è ammalato, si preghi con fede per la guarigione, quel malato sarà guarito. Non dice forse sarà guarito, forse chissà quando, in quale futuro, se Dio vuole. No, quel malato sarà guarito, però c'è una condizione. La fede. Bisogna avere fede. Quindi non sbagliano molti predicatori a dire che alcune cose non avvengono quando non c'è fede. È chiaro che alcune volte si esagera, magari veramente c'è fede in una persona e alcune cose non avvengono e magari bisogna insistere, magari è un altro discorso questo qui. Quindi si esagera a dire non hai abbastanza fede. Chiaramente questo è sbagliato. Però è sbagliato anche dire che la fede non c'entra nulla, perché la fede c'entra tutto. In questo studio noi impareremo a vedere come la fede c'entra in ogni cosa, in ogni miracolo che è avvenuto nella scrittura. Quel miracolo è stato possibile solamente per mezzo della fede. La fede è essenziale, è un ingrediente essenziale affinché possiamo ricevere le promesse di Dio. Va bene? Ora, la fede si basa quindi su due fasi, su due fasi che abbiamo visto nella definizione di fede. La fede è certezza di cose che si aspettano con fiducia, poi fase numero due è dimostrazione di realtà che non si vedono. Ora, cosa significa credere aspettando con fiducia? ce l'abbiamo appena visto, che non è la speranza in qualcosa che accadrà lontanamente, ma è certezza di qualcosa che è già avvenuto nel momento in cui abbiamo pregato. Gesù dice credete che le avete già ricevute, perché a volte il mondo spirituale si muove istantaneamente quando preghiamo, a volte il mondo spirituale si muove più lentamente rispetto al mondo fisico, perché nel mondo spirituale non c'è tempo. Qui c'è il tempo, ma nello spirito non c'è tempo. E quindi a volte noi non riusciamo a conciliare le due cose nella nostra realtà. A volte quando preghiamo le cose possono succedere istantaneamente, molte volte succede istantaneamente, a volte richiede del tempo. Ma una cosa è certa, se tu hai pregato qualcosa che Dio ha promesso per la tua vita, quel qualcosa accadrà e tu devi credere che sta già avvenendo. Gesù dice credete che le avete già ricevute quelle cose. E questa la fede non speriamo che magari accada. Io credo che se ho pregato per la guarigione, se ho pregato per un mio familiare, se io ho pregato per qualcosa che Dio ha promesso, io credo che qualcosa è mio, mi appartiene, lo vedo già con gli occhi della fede, compiuto, pronto davanti a me. Io vedo già il miracolo. Come Giosuè e Caleb, che furono gli unici di quelle dodici spie che non vedevano i giganti davanti a sé. I giganti c'erano, ma loro vedevano la terra dei giganti, vedevano oltre i giganti, oltre la difficoltà. Questa è fede. E la Bibbia dice quegli uomini furono mossi da un altro spirito. E noi sappiamo qual è quello spirito, lo spirito santo, che è lo spirito di fede. Da che spirito sei mostro stasera? Dallo spirito del dubbio o dallo spirito santo, che è lo spirito di fede. Numero due, l'altra fase della fede è l'altra parte della definizione di fede, che dice che la fede è dimostrazione di realtà che non si vedono. La parola dimostrazione è in greco elegos, che significa letteralmente prova. Quindi è una dimostrazione, è una prova di realtà che non si vedono. Perché voglio dirti una cosa. Se tu hai fede, quel miracolo per cui stai pregando, per cui stai credendo, avverrà e ci sarà una prova tangibile davanti a tutti che quel miracolo è avvenuto. Preparati alla prova, alla dimostrazione di quel miracolo, alla dimostrazione pubblica. Perché la fede non è soltanto una teoria, è una dimostrazione di realtà che non si vedono, realtà che non vediamo. Noi non vediamo in questo momento, per alcuni di noi, la nostra guarigione, la nostra liberazione, un familiare salvato, il debito sanato nella nostra vita, la nostra famiglia restaurata. Noi non vediamo la promessa di Dio, ma la realtà spirituale di quella cosa, il miracolo è già pronto. Nel mondo dello spirito Dio l'ha già provveduto, perché è una sua promessa, perché l'abbiamo chiesto in preghiera. Quella realtà è già pronta per noi. Dobbiamo credere di averla già ricevuta. E quando noi crediamo di averla già ricevuta, quando abbiamo fede, ecco che quel miracolo viene dimostrato. Nella realtà materiale di tutti i giorni, quel miracolo prende forma. Iniziamo a vedere quella guarigione, la possiamo testimoniare, possiamo testimoniare di quello che Dio ha operato nella nostra vita. La parola elegos è la prova, la prova tangibile. Nella definizione stessa di fede c'è fede. E questo è un qualcosa di meraviglioso. Nella definizione stessa di fede c'è la fede. La fede ha che fare con una dimostrazione visibile che quel miracolo è accaduto. E quindi è un qualcosa di straordinario. La stessa definizione di fede ti dà la fede. Di credere che Dio voglia fare qualcosa di meraviglioso, che può farlo e lo farà, anzi ha già operato. Dobbiamo iniziare ad avere questa mentalità. Il Signore ha già operato. Io ho creduto, il Signore ha già operato. Ha già operato. E mentre molti hanno questa mentalità, molti miracoli accadranno istantaneamente nella vostra vita. E l'ho visto accadere a tante persone che hanno ricevuto ministrazione, hanno ricevuto preghiera, hanno ricevuto guarigioni incredibili per mezzo della fede. Della fede di nient'altro. Ora, continuiamo a leggere in Ebrei 11, che ci presenta adesso i vari tipi di fede. Vedete un po'. Ebrei 11, versetto 2, versetto 3, dopo questa definizione introduttiva, dice, infatti per mezzo di essa, cioè della fede, gli antichi ricevettero testimonianza. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza, da cose apparenti. Vedete ancora qui dice, le cose che si vedono, la realtà, la realtà, la materia, non venne all'esistenza da cose apparenti. In poche parole la materia non venne da cose che si vedevano già. La materia non venne da materia. La materia venne da una realtà che non si vedeva. Non da cose apparenti, da cose che si vedevano, ma da cose inapparenti, cose invisibili. La realtà dello spirito, ecco perché la Bibbia dice che la fede è dimostrazione di realtà che non si vedono. Come tutto questo mondo è stato creato da una realtà spirituale precedente, così ogni nostro miracolo viene creato da una realtà spirituale che esiste e che plasma questa realtà materiale. Perciò quando tu credi alle promesse di Dio e chiedi con tutta fede al Signore quella promessa che avvenga nella tua vita e mentre stai credendo in quel mondo spirituale, quella promessa inizia a prendere forma nella tua vita. Inizia a prendere forma nella tua vita. Quindi la fede non ha niente a che fare con questo atteggiamento di sperare, chissà se un giorno il mio miracolo mi alzerò la mattina e lo vedrò. No, è credere che in questo momento stesso il mondo spirituale sta plasmando la tua realtà materiale e sta producendo il miracolo che tanto aspetti. Molto semplice. Questa è la fede. Dobbiamo iniziare a comprendere la fede, a studiarla e ad avere un atteggiamento di fede. Ora, la prima fede di cui la Bibbia parla qui sta parlando della fede intellettuale, il primo livello di fede, il primo livello di fede. Perché la Bibbia dice per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Per fede. Non tramite la scienza. Vedete, ma sapete cosa fa la scienza? La scienza studia ciò che è stato già scritto e creato da un creatore. La scienza non determina realtà. La scienza studia la realtà. È un qualcosa di molto diverso. Quando gli scienziati studiano una teoria, studiano l'universo, cosa fanno? Vanno dalla lavagna e iniziano a derivare da quella legge delle formule che spieghino quella legge. È una derivazione. Cioè, gli scienziati non creano la formula. Nessuno scienziato ha mai creato la formula della forza di gravità. La forza di gravità c'era lì prima dello scienziato. La forza di gravità opera in quel modo, a prescindere dallo scienziato o dalla legge di Newton. Newton ha studiato la forza di gravità, ha studiato la matematica, cioè il linguaggio di quella formula, e ha derivato la formula. Ha capito? Ok, così funziona la gravità. Vi spiego come funziona la gravità. Ma la scienza non ha prodotto la gravità. Ha soltanto studiato qualcosa che esisteva già e ha formulato per iscritto una legge che era stata già scritta dal creatore, da Dio. È Dio che ha stabilito come deve funzionare la forza di gravità, come deve funzionare la forza elettromagnetica. È Dio che ha stabilito come questo oggetto deve cadere a terra, come la luna deve orbitare intorno alla terra, la terra intorno al sole. È Dio che ha stabilito tutte queste cose nell'universo. Le leggi matematiche le ha scritte Dio. È il linguaggio di Dio. L'uomo non può fare altro che prendere il cannocchiale e studiare, cercare di capire ciò che è stato già creato, ciò che è stato già fatto. Vedete quanto è stupido l'uomo con il suo orgoglio di voler credere di poter spiegare l'universo senza Dio. Senza Dio. E non vedere che tutto ciò che avviene nell'universo è perché è stato scritto una legge. Ci sono delle leggi che sono state scritte con intelligenza, con ordine, da qualcuno che ha una logica, ha un pensiero. C'è un creatore dietro tutto l'universo. Ecco che la Bibbia dice molto più stagiamente di quanto possono dire gli scienziati oggi. Oggi che per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. E questa è la fede intellettuale. Vedete, si è creduto per tanto tempo alla teoria del Big Bang. Teoria significa qualcosa di non dimostrato pienamente ancora. È una teoria, è un'ipotesi che si sia formato come il Big Bang. Però Dio non lo vogliamo, ma l'ipotesi sì. E oggi stanno scoprendo, ho ricevuto notizie perché io sono molto appassionato anche di queste cose, stanno arrivando notizie di zone dell'universo che non si stanno espandendo. Poiché si crede che l'universo si sia formato per mezzo di uno scoppio, allora tutto si deve espandere. Tutto ha sempre una velocità costante, si deve espandere. Ma ci sono zone dell'universo che non si stanno espandendo, anzi il contrario. E allora qualcosa non torna, qualche calcolo non torna bene con la teoria del Big Bang. E questo vale per tante teorie. Oggi non voglio entrare in merito. Ci sono pagine che parlano anche di questo, di come la scienza si basa su una fede sbagliata, fede su teorie umane che ancora non sono state dimostrate, pur di aggrapparsi alla speranza che non esista un Dio. Perché la fede è mossa, la scienza è mossa purtroppo, la maggior parte della scienza, non tutta, ma la maggior parte degli scienziati sono mossi da una fede atea, una fede in qualcosa che sicuramente non è Dio. Cercano di spiegare l'universo con qualcosa che non è Dio. In realtà no. Ogni legge scritta è stata scritta perché c'è un creatore che l'ha scritta e c'è un'intelligenza dietro. Questa è la fede intellettuale, la prima forma di fede che la Bibbia ci presenta. È una fede che salva questa? Assolutamente no. Assolutamente no. non è che per il fatto che io riconosco che c'è un creatore allora sono un qualcuno che andrà in cielo o sono qualcuno che ha una relazione con Dio. Perché tante volte si parla di questo con tante persone e mi dicono e mi rispondono vabbè io credo in Dio, io credo che c'è un creatore. Ma non basta credere che c'è un creatore. Che dobbiamo fare che noi riconosciamo che c'è un creatore se non abbiamo una relazione con lui? Se non abbiamo strinto una relazione, se non lo conosciamo personalmente, se non percepiamo la sua presenza. Quindi la fede che salva non è la fede intellettuale, ma è la fede salvifica di cui ne parla adesso qui la Bibbia al versetto 4. Ebrei 11.4 dice per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per essa ricevette egli la testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. La Bibbia ci sta parlando di Abele in questo momento. Perché Abele? Che ha a che fare Abele con la fede? Noi sappiamo che l'uomo è nato, nasce nel peccato. Oggi perché Adamo, il suo progenitore, decise di vivere senza Dio. E il dominio della terra che gli era stato affidato decise di darlo a una linea di sangue contaminata, corrotta, la razza umana, che ormai era senza Dio, senza speranza, senza più una relazione con Dio. E quando Dio scoprì questo, scoprì il peccato, noi sappiamo quello che successe. Sappiamo che Dio disse, profetizzando, che dalla progenie della donna, quindi un altro uomo sarebbe nato, che avrebbe risolto il problema del peccato. E dicendo questo Dio prese un animale, lo uccise, fece delle pelli e coprì Adamo ed Eva. Cioè Dio stava profetizzando ad Adamo che sarebbe venuto Gesù, sarebbe venuto colui che in sangue umano, ovviamente, con la carne, con la debolezza, la corruzione del peccato, ma con una natura divina, perché Dio stesso, se si è incarnato in Gesù Cristo, avrebbe preso i nostri peccati, le nostre colpe e avrebbe risolto per sempre il problema del peccato. Gesù ha permesso quindi che noi possiamo riacquistare una relazione con Dio, non una religione. Sono due cose diverse, perché la religione sono regole, regole, parole, parole, preghiera a non finire, pesantezza a non finire, ma Gesù è relazione, Gesù è concretezza, Gesù si può avvertire tramite la sua presenza, Gesù è realtà. Gesù vuole una relazione, non una religione. E Gesù è venuto a morire sulla croce per questo, è venuto a saldare il debito che c'era fra te e Dio. E quindi non importa se tu pensi di andare in cielo per mezzo delle tue brave opere, perché osservi tutti i comandamenti, perché vai in chiesa tutti i giorni, o perché fondamentalmente sei una brava persona. La Bibbia dice che tutti siamo peccatori e per essere salvati c'è soltanto una maniera, credere per fede nel sacrificio di Gesù, per fede. Io ho fiducia che il sacrificio di Gesù ha perdonato tutti i miei peccati, ha saldato il mio debito con Dio e se io credo con tutto il cuore io posso ricevere la salvezza. Semplice, semplicissimo. La nostra è una fede cristiana dove basta credere con tutto il cuore che Gesù è morto per i nostri peccati e noi riceveremo la salvezza e Dio diventerà reale nella nostra vita, la sua presenza toccherà la nostra vita. Se tu stai vivendo una religiosità, una religione fatta di teoria, di concetti, fatta di preghiera e memoria, ma non hai nessuna relazione con Dio. Allora devi credere a quello che Gesù ha fatto alla croce. Ma io so che Gesù è morto in croce, ma lo sai fino a che punto? Conosci davvero il messaggio del Vangelo? Quello che abbiamo detto appena adesso? Che tutti noi siamo peccatori, che non importa quello che stai facendo da religioso, ma tutti abbiamo bisogno della grazia di Dio. Stai comprendendo che ci si salva per grazia attraverso la fede nel sacrificio di Gesù? Romani 5.1 dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Giustificati per fede, cioè resi giusti per mezzo della fede e non per mezzo delle opere, non per mezzo di cose che tu fai, non per mezzo dei tuoi rituali religiosi, non per mezzo di opere che sconterai in purgatorio, che farai in purgatorio. Questo è diabolico, è assurdo, non c'è nella parola di Dio e sfido chiunque a trovarlo nella parola di Dio. Allora forse stai facendo parte di un sistema religioso che ti sta ingannando, che non vuole che conosci la Bibbia, non vuole che conosci la scrittura, dove credi di essere un cristiano, ma la tua è una fede intellettuale, non è una fede salvifica, come stiamo leggendo adesso, non è una vera fede in Dio, una vera fede nel suo sacrificio. Ah ma io credo che Gesù è morto in croce, ah ma l'hai sperimentato, hai conosciuto la presenza di Dio, hai fatto un incontro con la presenza di Dio. Se non l'hai fatto questo incontro, il tuo credere è un credere fasullo, ma se stasera tu ti ravvedi e dici io davvero ho bisogno di Dio, forse per la prima volta nella mia vita, dopo aver pensato di essere stato un cristiano per lungo tempo, mi rendo conto di non esserlo stato, mi rendo conto che devo creare una relazione con Dio. Allora in questo momento devi avere fede che Gesù alla croce ha pagato per ogni tuo peccato e farà sentire la sua presenza e ti trasformerà la vita una volta per sempre. Quindi questa è la fede salvifica, siamo stati giustificati, resi giusti per fede, non tramite la religione, non tramite delle opere buone, ma tramite la fede in Gesù. Noi continuiamo il nostro cammino cristiano per fede, perché la seconda cosa che dice di questo la parola di Dio al versetto 5, dice per fede Enoch fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito, oppure rapito viene anche tradotto, prima infatti di essere portato via egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. Quindi per fede non solo conosciamo Dio ma camminiamo con Dio. Io ogni giorno per fede cammino con Dio, io so che Gesù ha perdonato i miei peccati, io so che lo Spirito Santo vive dentro di me, io so che lo Spirito Santo mi aiuterà a vivere una vita santa, una vita piacevole al Signore. Tutto si basa su un rapporto di fede, di fiducia in Dio. Quindi la Bibbia dopo averci parlato di salvezza tramite Abele, adesso ci parla di Enoch, ci parla del camminare con Dio, essere salvati e poi camminare con Dio. Quello che non vi ho detto prima di Abele perché mi sono perso nel discorso, sicuramente Adamo ha raccontato ai propri figli, ad Abele, a Caino, come Dio prese quell'animale, lo uccise e promise all'uomo che sarebbe nato dalla discendenza umana un uomo che avrebbe risolto il problema del peccato. Allora Abele probabilmente, a differenza di Caino, capì che Dio avrebbe compiuto un sacrificio, che del sangue sarebbe stato versato, che l'unica offerta che sarebbe stata gradita a Dio sarebbe stata quella del sangue di qualcuno che avrebbe pagato e purificato tutti i nostri peccati. Ecco perché Abele prese un agnello e sacrificò l'agnello, sacrificò un animale. Che cosa significa? Che io non devo fare niente, devo prendere un animale, sgozzarlo e versare il sangue a Dio. Nessun lavoro da fare. Mentre Caino pensò invece di dover offrire i frutti della terra, quindi i frutti della terra significano sudore, significano opere, significano sforzi. Caino andò a raccogliere la frutta, la verdura che cresceva, ha dovuto concimare il terreno, ha dovuto innaffiare il terreno, coltivarlo e quindi ha dovuto sudare. E quindi Dio cosa fece? Accettò il sacrificio di Abele, quel semplice agnellino che era stato sacrificato e rifiutò tutti gli sforzi di Caino. Perché Dio stava dicendo un messaggio, Dio stava facendo capire un messaggio che è valido ancora oggi, che ci si salva per fede nel sacrificio di Gesù e non ci si salva per mezzo delle nostre opere. Non ci si salva avendo fiducia che noi siamo dei bravi cristiani, che siamo delle persone a posto, perché non lo siamo. Davanti a Dio nessuno lo è. Tutti abbiamo bisogno di sangue che ci purifica, che copre i nostri peccati, che è il sangue di Gesù. E quindi questo è il messaggio che Dio ha sempre dato fin dall'inizio, la fede, la fede, la fede. Ora, Ebrei 11,6, subito dopo la Bibbia dice, ora senza fede, vedete qui un'altra bella promessa di Dio, ora senza fede è impossibile piacergli perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. La parola rimuneratore significa il ricompensatore. Per fede tu sei gradito a Dio, se non hai fede non sei gradito a Dio. E questo è l'ammonimento che voglio dare stasera. Senza fede, dice la Bibbia, è impossibile piacere a Dio. È impossibile piacere a Dio pregando per una malattia e poi dicendo ma speriamo che questa preghiera abbia funzionato. Se vuoi piacere a Dio devi credere che quando hai pregato quella malattia è stata guarita. E in quel momento tu sei piacevole agli occhi di Dio. Perché tutto si basa sulla fede, sulla fiducia assoluta che Dio risolve i tuoi problemi, che Dio ha promesso quella cosa e quella cosa verrà. E dice che chi si accosta a Dio con questo atteggiamento deve credere che egli è. Cioè deve credere che lui è Dio e se l'ha detto Dio quella cosa verrà e che egli è il rimuneratore e il ricompensatore di quelli che lo cercano. Se tu ti accosti a Dio con questo atteggiamento Dio sarà il tuo ricompensatore. Tu sarai ricompensato, tu sarai ricompensata se ti accosti a Dio con questo atteggiamento di fede. Ora concludiamo parlando dell'altro tipo di fede. Abbiamo visto la fede intellettuale, abbiamo visto la fede salvifica che ci salva in questo momento. Adesso vogliamo parlare di fede per i nostri miracoli. E da ora in poi inizieremo a vedere questo tipo di fede. Parleremo innanzitutto dell'atmosfera di fede, che è molto importante. Io stasera sto cercando di creare un'atmosfera di fede e che questa atmosfera poi sarà vostro impegno portarvela a casa, cortivarla a casa vostra, nelle vostre riunioni in chiesa. La prossima volta, quando pregate, pregate con questa atmosfera di fede, con questo atteggiamento di fede. Ora, la fede è il mezzo, ascoltatemi bene, con il quale entriamo in contatto con il soprannaturale. La fede è il mezzo con il quale entriamo in contatto con il soprannaturale, con i miracoli soprannaturali di Dio. Affinché il soprannaturale diventa possibile nella nostra vita, c'è bisogno di due cose. Ascoltatemi bene questa sera. C'è bisogno di unzione e c'è bisogno di fede. Ripeto, affinché un miracolo avvenga nella tua vita, affinché il soprannaturale si manifesti nella tua vita, c'è bisogno di unzione e c'è bisogno di fede. C'è bisogno di queste due cose. L'unzione cos'è? La potenza di Dio. Quando un uomo di Dio è ripieno di potenza e sta pregando per un malato, ascoltatemi bene chi vuole pregare e ministrare per i malati, per le liberazioni, per la potenza di Dio. Se tu sei ripieno della potenza di Dio, tu senti che c'è un qualcosa che si sta muovendo. Tu senti che c'è dell'elettricità, tu senti una potenza che si sta muovendo. Oppure tu sei in chiesa, oppure sei in una diretta come questa e stai percependo la presenza di Dio. Quella è la potenza di Dio che stai percependo in quel momento. È lo Spirito Santo ed è potenza sufficiente a guarirti da ogni infermità, a risolvere ogni problema, ogni ferita dell'anima a guarire, a liberare da ogni oppressione demoniaca. Quella è la potenza di Dio. Ora, tutto ciò non basta. Non basta che ci sia un servo di Dio unto, non basta che ci sia una chiesa unta, non basta che ci sia la potenza di Dio tangibile sulla nostra pelle. C'è bisogno della fede. C'è bisogno dell'altro ingrediente per attivare la potenza di Dio. Voglio farti un esempio. In questo edificio, come tutti gli edifici dove state guardando stasera questa diretta, sta scorrendo della corrente elettrica. Ci sono dei fili elettrici, c'è un impianto e c'è della corrente elettrica, 220 volte, pensate un po', che sta scorrendo in tutto l'impianto. Se voi andate a ficcare il dito nella presa, ci rimanete lì, perché c'è una potenza che sta scorrendo che è incredibile. È pazzesca. Però questo non basta. Se io voglio attingere a questa potenza, se io voglio attingere a questa corrente elettrica che sta fluendo nel mio appartamento, devo prendere una spina e collegarmi a una presa elettrica. Perché c'è la potenza, c'è l'elettricità, ma affinché questa potenza, questa elettricità, possa essere utilizzata, io ho bisogno di una spina e attingere dell'impianto elettrico. Non è che mettendo le mani qui io posso prendere l'elettricità che sta scorrendo nei fili elettrici nel muro. Ho bisogno di andare a una presa, infilarci la spina. Vedete, la fede è così. Quando c'è la potenza di Dio, quando tu hai fede, la fede è una spina che si collega alla potenza di Dio e tu ricevi quella potenza di Dio, per fede. Ecco perché quelle persone semplici che hanno fede sono come una spugna che succhiano l'unzione, assorbono l'unzione, assorbono la potenza di Dio. Ed è un qualcosa di incredibile, tu le vedi veramente traboccare sotto la potenza dello Spirito Santo. Perché ci può essere l'unzione, ma se non c'è la fede non serve a nulla, non serve a nulla. Io ho visto dei grandi generali di Dio che sono viventi oggi nel mondo, che Dio se ne è usato con miracoli prodigiosi in tutto il mondo e quando sono venuti in alcune nazioni, come l'Italia anche, ho visto questo, pochissimi miracoli sono accaduti. Perché l'unzione c'era, ma non c'era la fede per ricevere da quell'unzione. Quindi ricordate questo esempio. La fede è come la spina della corrente, che tu la inserisci nella presa e ricevi la potenza che sta scorrendo, la potenza che c'è all'interno della tua casa. Quindi è qualcosa di molto importante. Ci sono realtà cristiane dove c'è fede, si fedica molto sulla fede, c'è la fede, ma non c'è l'unzione e non si può ricevere da parte di Dio. Ci sono realtà dove c'è l'unzione ma non c'è la fede. Quindi è importante che ci siano entrambe le cose. Ci deve essere l'unzione e ci deve essere la fede. Va bene? Quando tu stai percependo la potenza di Dio, caro che stai ascoltando, la presenza di Dio, muoversi sul tuo corpo, quello è il momento di avere fede. Perché io ti assicuro che se hai fede tu verrai guarito. Se hai fede tu verrai sanato, sanato nell'anima, verrai liberato. E c'è bisogno di questa semplicità. E non pregare con l'occhio aperto, spiando che cosa sta succedendo. Chissà se magari sono stato guarito. Quindi è importante la fede. Vedete, adesso iniziamo a mettere le basi per capire quanto è importante la fede affinché avvengono i miracoli. Finora vi ho detto proprio la superficie, l'introduzione di tutto ciò che ha a che fare con la fede. Ma adesso voglio parlarvi di Gesù. Voglio parlarvi di Gesù. Che è l'unto per eccellenza. Il più grande compitore di miracoli sulla faccia della terra. Gesù Cristo. E come Gesù ha dovuto avere a che fare con l'atmosfera della fede. E quindi non è un'invenzione quello che stiamo dicendo. È una cosa molto importante avere un'atmosfera di fede intorno a noi. Marco 6. Dal versetto 1 leggiamo cosa dice la Bibbia. Poi uscì di là e venne nella sua patria Gesù. E i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga. E molti udendolo si stupivano e dicevano Da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? Come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosee, di Giuda, di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi. Ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro Nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non poteva fare lì alcuna opera potente. Salvo che guarire pochi infermi imponendo loro le mani. E si meravigliava Gesù della loro incredulità. E si meravigliava della loro incredulità. Wow. Gesù va a Nazareth, va nel suo paese natale. E lì c'era un'atmosfera diversa dagli altri paesi. Perché mentre negli altri paesi, quando si udiva l'annuncio che Gesù stava passando, sta passando Gesù, colui che guarisce i malati, colui che fa vedere i ciechi, che fa udire i sordi, colui che li guarisce le brosi, che risuscita i morti, colui che libera dagli indemoniati. Sta passando Gesù. Allora tutti quanti vogliamo conoscere questo Gesù, non lo conosciamo, andiamo a vedere. Allora c'era un atteggiamento di aspettativa, c'era un atteggiamento di fede. Si aspettava con fiducia che qualcosa stava per succedere. A Nazareth, poiché Gesù è cresciuto a Nazareth, conoscevano Gesù. Allora dicevano, chi è costui che si sentono tante opere potenti? Noi lo conosciamo, Gesù. È il falegname. È il figlio di Maria. Ma com'è possibile che avvengano miracoli? Com'è possibile tutte queste cose? Allora vedete, questo atteggiamento creò un'atmosfera a Nazareth negativa, di incredulità. Incredulità. Gesù si meravigliava della loro incredulità. E non poteva fare molte opere potenti. Pensate un po'. Anzi, la Bibbia dice, correggo, la Bibbia dice, non poteva fare alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi. Quindi ci furono delle guarigioni, ma non ci furono miracoli veri e propri. Opere potenti. Nonostante Gesù era l'unto di Dio, ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Nonostante era l'unto di Dio, perché c'era un'atmosfera di incredulità. Quante volte ci sono atmosfere di incredulità? Nelle nostre chiese. Nelle nostre case. Nella nostra mente c'è un'atmosfera di incredulità. Quante volte? E non ci permette di ricevere. Non ci permette di ricevere le opere potenti che Dio vuole fare nella nostra vita. Un altro esempio vi voglio dare, dove la fede, l'incredulità, la mancanza di fede, ha causato la potenza di Dio di non manifestarsi. Matteo 17. Dal versetto 16 dice, ora, io l'ho presentato ai tuoi discepoli. Che cosa? Un ragazzo che era indemoniato. Ma essi non l'hanno potuto guarire. E Gesù rispondendo disse, oh generazione incredula e perversa. Gesù sta dicendo, c'è un'atmosfera qui di incredulità. Fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Vedete che chi non ha fede non può piacere a Dio. Portatelo qui da me. E Gesù allora sgridò il demone che uscì da lui e in quell'istante il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli accostatesi a Gesù in disparte e dissero perché non siamo stati capaci di scacciarlo? Gesù disse loro per la vostra incredulità. Perché io vi dico in verità che se avete fede quanto un cranio di senape direte a questo monte spostati di qua a là e adesso si sposterà e niente vi sarà impossibile. A causa della vostra incredulità. I discepoli, vedete, avevano in quel frangente già operato delle liberazioni da demoni, già operato delle guarigioni, avevano pregato per i malati e li hanno visti guariti. Che è successo? Pregando per questo ragazzo, poiché questo ragazzo aveva magari un demone molto più forte, hanno visto che non veniva liberato subito, che c'era un po' di resistenza. Allora si sono scoraggiati. Hanno iniziato a pensare qualcosa non sta funzionando, non ce la possiamo fare, è più forte di noi, non abbiamo abbastanza potenza da parte di Dio. chissà quante cose sono passate nella loro mente, chissà quante cose passano nella nostra mente quando preghiamo e non vediamo subito le cose accadere. E Gesù cosa fa? L'isgrida, generazione incredula, incredula, è accaduto a causa della vostra incredulità. Perché la fede, poi lo vedremo nelle prossime dirette, è insistenza e persistenza. Anche quando tu non vedi subito il risultato, tu sai che se stai pregando, in questo caso, per la liberazione. Quella liberazione avverrà, c'è poco da fare, perché stai pregando nel nome di Gesù. Gesù disse, io vi do autorità su ogni serpente, scorpione, su tutta la potenza del nemico. Punto. Tu l'autorità ce l'hai, i demoni devono uscire. Anche se non l'hai visto subito, continua a pregare perché quel demone uscirà. E invece cosa è successo? Nella mente di quei discepoli entrò la frustrazione, entrò il dubbio. E tante volte nella nostra mente perché non vediamo subito le cose e entra il dubbio. A volte crediamo per pochi istanti che Dio possa operare miracoli nella nostra vita e quando il miracolo non avviene entriamo nel dubbio. Iniziamo a diventare increduli e smettiamo di credere. Ci arrendiamo subito. Ma la fede è per coloro che non si arrendono, per coloro che persistono. E quei discepoli videro Gesù liberare quel ragazzo da quell'indemoniato. Ora, Marco, al capitolo 5, vi leggo un altro passaggio prima di concludere, vi faccio vedere ancora meglio quanto è importante un'atmosfera di fede. Marco, capitolo 5, dal versetto 35. Mentre Gesù stava ancora parlando, vennero alcuni dalla casa del capo della sinagoga dicendo la tua figlia è morta perché importuni ancora il maestro. Quindi c'era questo capo della sinagoga di nome Giairo a cui stava per morire una figlia e mentre Gesù si stava recando a casa sua per guarirla ecco che giunge la notizia tua figlia è morta. Immaginate la fede di quest'uomo andare veramente a terra e la fede di coloro che erano con lui sicuramente andare al minimo scendere veramente in basso anche la fede dei discepoli di Gesù ma Gesù appena intese ciò che si diceva disse al capo della sinagoga non temere credi solamente bellissimo questo versetto ve lo ripeto ma Gesù appena intese ciò che si stava dicendo appena intese che si stava sviluppando un'atmosfera di incredulità disse subito al capo della sinagoga non temere credi solamente Gesù stava proteggendo l'atmosfera di fede di Giairo del capo della sinagoga Gesù stava proteggendo quell'atmosfera di fede da queste notizie negative vedete quanto importante l'atmosfera della fede e vedete cosa fece Gesù subito dopo e non permise che alcuno lo seguisse all'infuori di Pietro Giacomo e Giovanni non permise che alcuno lo seguisse tranne quei tre quei tre che Gesù portava sempre nei momenti più difficili nei momenti dove c'era un'atmosfera di incredulità quelle persone che erano più spirituali quei discepoli che erano più spirituali perché vi sto leggendo questo? per farvi capire quanto è importante un'atmosfera di fede affinché i miracoli possano avvenire a volte succede che se su dieci persone tre quattro sono incredule oppure polemizzano sono in disaccordo con la predicazione i miracoli non avvengono c'è un'ostruzione al flusso della potenza di Dio e lo impariamo da questi episodi biblici e vediamo che Gesù giunto a casa del capo della sinagoga vide un gran trambusto e gente che piangeva urlava forte oh mamma mia immagino la scena Gesù che stava tentando di proteggere l'atmosfera di fede di Jairo e che arriva a casa di Jairo e vede gente che piange che strepida che urla è morta è finita non possiamo farci più niente e Gesù è in ritardo e Gesù non ha fatto in tempo quante volte facciamo così nella nostra vita signore non è fatto nulla le cose sono precipitate le cose sono andate peggio signore ma non vedi e ci sono strepidi e ci sono urla e c'è gente che parla negativo a destra e gente che parla negativo a sinistra Gesù cosa fece entrato disse loro perché fate tanto chiasso e piangete la fanciulla non è morta ma dorme Gesù ha dovuto vedere la fanciulla non morta ma dormiente ha visto già con gli occhi della fede Gesù quello che doveva avvenire vedete la fede come vi ho detto prima all'inizio non guarda il presente non guarda le circostanze vede già quello che sarà dopo vede già le cose come dovranno avvenire e quindi Gesù disse questo e quelli lo deridevano peggio ancora vedete un po' l'atmosfera pesante pesante che c'era in quella casa ma egli messili tutti fuori adoro questa parte prese con sé il padre la madre della fanciulla e coloro che erano con lui ed entrò là dove giaceva la fanciulla Gesù li mise tutti fuori dalla porta li mise tutti fuori dalla porta tutti gli increduli tutti i parloni chiacchieroni negativi vedete quanta importanza è l'atmosfera di fede presa la fanciulla per la mano le disse talità che tradotto vuol dire fanciulla ti dico alzati e subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare eccetera eccetera sappiamo sappiamo l'episodio vedete quanto è importante un'atmosfera di fede vedete se riusciamo a entrare in questo atteggiamento come possiamo vedere i miracoli di Dio i discepoli di Gesù compresero questo insegnamento lo fecero proprio questo insegnamento e lo misero all'opera atti 9 dal versetto 36 ora in Ioppe c'era una discepola di nome Tabita che significa gazzella ella faceva molte opere buone e molte lemosine ora avvenne in quei giorni che ella si ammalò e morì dopo averla lavata fu posta in una stanza al piano superiore e poiché Lidda era vicino a Ioppe i discepoli udito che Pietro si trovava là gli mandarono due uomini per pregarlo di venire da loro senza indugio Pietro dunque si alzò e partì con loro appena giunse lo condussero nella stanza di sopra tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che gazzella faceva mentre era con loro dicevano Pietro guarda era una brava ragazza quante cose buona faceva l'abbiamo persa è morta stavano già per celebrare il funerale un altro po' a questa ragazza nonostante avevano chiamato Pietro che era il più grande apostolo di Dio al momento e poteva veramente manifestarsi la gloria di Dio in quella casa Pietro allora cosa fece gli disse oh mi dispiace tanto avete ragione e si mise a piagnucolare insieme a loro Pietro no Pietro allora fatti riuscire tutti fuori si pose in ginocchio e pregò poi rivoltosi al corpo disse Tabita Tabita alzati ed egli aprì gli occhi ed egli aprì gli occhi Pietro visto questo la fece sedere e gli diede la mano e l'aiutò ad alzarsi e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita avete visto Pietro fece la stessa cosa gli fece uscire tutti fuori gli fece uscire tutti fuori vedete bisogna curare l'atmosfera Pietro capì il segreto era stato con Gesù aveva visto la scena a casa di di Jairo ha capito la lezione e la mise in pratica se vogliamo vedere i miracoli nella nostra vita bisogna avere un'atmosfera di fede la stessa cosa fece Eliseo quando dovette risuscitare quel bambino morto è scritto che lui mise tutti fuori e si chiuse in stanza con quel bambino non vi voglio leggere il passo perché stiamo stiamo allungando parecchio ma voglio concludere la diretta dicendo questo che atmosfera c'è nella tua vita che atmosfera c'è intorno a te ma soprattutto che atmosfera c'è nella tua mente c'è il dubbio ci sono pianti lamenti pettegolezzi incredulità devi curare l'atmosfera se tu puoi vedere i miracoli di Dio non solo avvenire nella tua vita ma anche nella vita degli altri pregando per gli altri devi curare l'atmosfera spirituale intorno a te io vedo cristiani patologici userei dire questo termine sono a contatto con tutte le fake news del mondo news e fake news su ogni malattia su ogni vaccino su ogni minima cosa ma come fai ad avere fede in quel modo ma come fai ad avere fede quando la tua mente è piena di notizie che parlano di morte di malattia di dubbio di sfiducia nei confronti di tutto e di tutti come puoi avere fede in quel modo dimmelo tu come fai ad avere fede quando sei pieno del telegiornale in testa che parla di negatività dalla mattina alla sera come puoi avere fede quando tolleri in casa tua persone che quando parlano delle tue circostanze parlano in maniera negativa ti dicono ma devi fare qualcosa devi provvedere non puoi aspettare che Dio opera e queste sono situazioni che non si risolveranno mai e non ce la farai mai a ottenere quella promessa da parte di Dio e ma vedi quella malattia non puoi pensare che con la preghiera si risolve devi assolutamente andare subito scappa da quello specialista poi vai da quell'altro e fai ancora qualche altro accertamento è importante fare l'accertamento è importante andare dal dottore ma quando la nostra mente è focalizzata su queste cose perdiamo di vista completamente l'opera di Dio la fede e allora è inutile mandare i messaggini Francesco prega per me e speriamo che qualcosa succeda no tu da oggi devi avere un'atmosfera di fede nella tua nella tua casa io credo e aspetto con fiducia che quello per cui ho pregato è già avvenuto e si sta per dimostrare questa realtà che ancora non si vede io credo in tutto questo io ho fede e non ti permetto in casa mia di dire certe cose io non permetto sul mio telefono certe app o certe notizie su Instagram o certi amici negativi su Facebook o anzi le cancello proprio queste cose io sono una persona che prenderà messaggi positivi sono una persona che non sconcentrerà la propria mente da quello che è la parola di Dio da quello che dice la parola di Dio bisogna coltivare la propria atmosfera se siamo pieni di queste dicerie è chiaro che nella nostra vita uscirà il dubbio verrà fuori il dubbio che distruggerà completamente la nostra fede quindi di cosa ti alimenti com'è fatta la tua atmosfera spirituale stasera sia onesto con te stesso sia onesto con te stesso circondati di persone di fede non basta essere circondati da cristiani sapete bisogna avere accanto persone di fede persone che credono persone che sono disposte a credere che in quel momento Dio ha messo mano alla tua situazione persone che credono che nella realtà spirituale ciò per cui stai pregando è già avvenuto e da un momento all'altro si sta per manifestare nella tua vita persone che non dubitano persone che non indagano persone che non fanno ricerche su ricerche quante volte succede un problema e la prima cosa che facciamo invece di andare a Dio e chiedere a Dio chiediamo a Google e Google si sostituisce a Dio Google diventa per noi il nostro dottore il nostro insegnante il nostro sapiente e ci riempie la testa di dubbi ci riempie la testa di malattie di incertezze di crisi di parole di debito di parole di sfiducia di incredulità allora in questo momento decidi stasera come introduzione alla fede oggi come introduzione a questo argomento decidi stasera di che atmosfera ti vuoi alimentare se è un'atmosfera di fede o un'atmosfera di incredulità stasera decidi da ora in poi di pregare in questo modo credendo che le cose per cui ha pregato se sono nella sua volontà nella volontà di Dio se stai pregando per le sue promesse devi credere che quella cosa è già avvenuta che Dio ha già operato nel mondo spirituale e che o istantaneamente o non quella cosa avverrà nella tua vita va bene e non si tratta di dichiarare Gianni si tratta di credere la fede è credere la fede non ha che fare con le opere la fede non dipende da quante volte io dichiaro la parola di Dio o da quante volte io recito la parola di Dio a memoria non dipenderà niente che io posso fare o da quante volte io cerco di focalizzare i miei pensieri questi sono i risultati della fede è chiaro che se io ho fede e credo con tutto il cuore parlo positivo e penso positivo ma non è questo che genera la fede la fede nasce di qua nasce dal cuore va bene nasce di qui dal credere avere fiducia che Dio ha già provveduto nei nostri confronti e di questo ne parleremo già ne approfitto ne parleremo perché la prossima volta nelle prossime dirette inizieremo a studiare davvero la fede entreremo nel vivo di questo argomento e vedremo una fede persistente una fede attiva una fede violenta una fede incondizionata se vogliamo vedere i miracoli di Dio la prossima volta entreremo nel vivo nel vivo e vedremo come tutto dipende dal nostro cuore e poi tutto il resto la Bibbia dice ho creduto perciò ho parlato e non viceversa la fede non si genera dalle nostre parole la fede si genera dal nostro cuore e quando il nostro cuore ha fede le nostre parole seguiranno perché la Bibbia dice dall'abbondanza di ciò che è nel cuore la bocca parla e non il contrario e questa è una cosa che molti sottovalutano e pensano che basta ovviamente recitare delle formule magiche a memoria in un certo senso affinché le cose avvengano invece non è così dipende tutto dall'atteggiamento del tuo cuore e stasera io credo che abbiamo fondato messo i presupposti per un atteggiamento di fede quindi che Dio vi benedica grandemente ci diamo appuntamento a venerdì prossimo ed entreremo nel vivo dell'insegnamento sulla fede Dio vi benedica grandemente grazie a tutti grazie a tutti